Tanto i tempi nella decima Numero 31, numero 68, numero 68 Poi la batteria è partita Adverna Damaschi, 41, 823 Due due neve, 41, 852 Due neve, 42, 952 Dai Michele! Dai Michele! Apri, apri Partita la prima batteria di semifinale Mernini, Cremaschi, Romerone, Menegaldo Ed è Cremaschi in testa, poi Menegaldo Non fatti sperare Cremaschi Attenzione, attenzione, ce l'abbiamo intenzendo Ed è Cremaschi e poi l'atleta della quadernese Berlini, ha caduto Menegaldo Buona, è partita regularmente la batteria Cremaschi, Carli, Berlini Moroni Dai Michele! Dai Michele! Dai Michele! Dai Michele! Dai Michele! Hè compagno? Dai Michele! Dai Michele! E' questa questa? Unì gente Ehm e